Buongiorno! Secondo voi vestiti così? Dove si va? Vestiti come te non lo so, io sto andando a sciare. Stiamo andando a sciare, io mi sto... ecco, perché non sono mai salita in seggiovia. Abbiamo anche ovviamente il piccolo ospite. Ciao amori! Cosa fai col tuo orsetto? A che ora ti ha svegliato papà stamattina? È le 5 e mezza per partire? È le 6 e mezza. Bene, sì, oggi andiamo a sciare, siamo in direzione... Falcade. Falcade. Velocità di crociera 96 km orari. Velocità di crociera 96 km orari e niente, ho sonno. Ci vediamo dopo. Fatta colazione da bollicine... Briciole si chiama? Da briciole in mano anche le bollicine. Dovete fermarvi, solo per andare in bagno. E non dico altro. Manuel ha fretta stamattina. Alessandro ha mangiato un bibone di latte, vero amore? Bibone di latte e la crema del pasticcino. Bu... Bu è a casa, amore, non può venire lì se giù via. Chi è che ha morso la mamma sul labbro? Eh? Pestifero? No. Arrivo previsto per le ore? 9 e 20. 9 e 20. Tardissimo. Tardissimo. 9 e 20 è tardissimo. Tenendo conto che sono già due minuti che si può sciare. Ecco, tenete conto che sono le 8 e 32 e dalle 8 e 30 si può sciare, quindi arriveremo tardissimo. Ci stiamo impumattando perché abbiamo una storia alle spalle molto, molto dura. Chi è che mangi i biscotti nel tecrotta? Però bule. Però è un bule. Grazie a tutti. 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 amore. Grazie a tutti.